Fuego è un cornuto, gli devi rubare la pappa a Cili e non c'è verso, hai la tua pappa di là, questa è la sua, è uguale, identica, perché gli devi rubare la sua? Eh, mi chiedi scusa, mi chiedi scusa, lo sai che sei un teppista tu, un teppista ma neppissimo, eh, vero? Vero? Eh, Fuego? Un teppista, lui deve mangiare la sua pappina, eh, è vero amore, non te la fa mangiare lui. Guarda, guarda, lo viene e ruba, deve rubare, no, questa è la tua, guardala, è identica, precisa, ecco, mangia, ecco, non fare finta che dai due bocconcini e poi vai e rubi la sua, tu gli mangi prima la sua e poi ti mangi la tua apposta, fai così, è vero? Sei un furbacchione, un furbacchione, prima gli rubo quello al mio amico e poi mi mangio la mia, amica, sono scemo. Lo devo chiudere il tuo amico così può mangiare? Eh? Lo devo chiudere, ti pare corretto? Deve andare a rubagliela, guarda, uno, due, tre, ah, mannaggia che testa dura, questa è identica amore, identica, precisa, no, quella è più buona, a me quella piace. E ora lo chiudiamo il tuo amico così non gliela rubi, guarda, guarda, intanto deve fare che deve andare là e rubargli la sua. Oh ma sono numeri questi, sono numeri di circo questi qua, qua è uguale, è identica, è identica, è la stessa, è uguale, lo vuoi capire? Che è uguale? Lo vuoi capire? Che è uguale? No.